benvenuti a nardò siamo nella periferia della città in una zona comoda per arrivare alle marine di questa bella cittadina vi presentiamo in vendita un'abitazione posta qui alle mie spalle secondo piano senza ascensore questa strada consente di dare luminosità e aerosità a tutti gli ambienti entriamo a vederla venite a vedere con me questa bella casa come vedete l'ingresso è ampio tutti gli ambienti della casa in realtà sono molto spaziosi comodi pratici e molto luminosi questo è un salone come vedete servito da una veranda molto comoda che vi consente di trascorrere del vostro tempo libero all'aria aperta guardando il contesto di questa città circondato dal verde andiamo a vedere il resto dell'abitazione dall'ingresso si procede dall'altra parte dal lato opposto della casa e si raggiunge la cucina abitabile da questa parte anche questa stanza come vedete ha una finestra che permette non solo di dare luminosità ma anche aerosità a tutti gli ambienti anche il corridoio il disimpegno che vi permette di raggiungere la zona notte è ben illuminato è molto pratico comodo anch'esso una cameretta da questa parte alle mie spalle il bagno e la camera matrimoniale di qua come vedete anche qui c'è un bel balcone che percorre tutto il retro dell'abitazione fino ad arrivare all'altra stanza quindi anche qui abbiamo degli ambienti luminosi comodi tranquilli riservati che guardano il verde pubblico della città venite vedere l'abitazione